Domanda e offerta di lavoro che si incrociano, aziende alla ricerca di personale qualificato che incontrano candidati adeguatamente formati. È lo scenario offerto dal Job Day organizzato a Trani dalla fondazione ITS Academy, che con i suoi corsi di alta specializzazione applica il modello di apprendimento duale, consentendo ai partecipanti di studiare e lavorare. Con l'estate ormai alle porte si va incontro così alla richiesta crescente di personale nel settore turistico pugliese. La grande novità dell'ITS è quella di aver dato una risposta a quella formazione duale, cioè metà fatta in aula e metà fatta in azienda, che rende molto più veloce l'apprendimento e l'inserimento nel mondo del lavoro. Nel turismo ce n'è una forte necessità perché comunque continuano a mancare posti di lavoro, cioè o meglio ci sono i posti di lavoro ma continuano a mancare le persone che vanno a riempire quei posti di lavoro e quindi fare una formazione così veloce e così buttata sulle esigenze pratiche diventa quanto mai necessario e utile. Attraverso tavole rotonde, momenti di approfondimento e colloqui individuali tra aziende e candidati, il Job Day si rivolge ad imprese del settore turistico ricettivo, agenzie di animazione ma anche a giovani in cerca di occupazione con o senza esperienza lavorativa. Il settore lavorativo, l'indotto turismo di quello che appunto l'ITS ci prepara dà tante prospettive di lavoro. Con una preparazione adeguata che ci fornisce l'ITS potremmo essere sicuramente dei lavoratori più consapevoli e quindi anche aspirare a posti manageriali con competenze adeguate. Un passo avanti per noi, comunque per chi lavora o magari per chi non lavora e per fare anche delle nuove esperienze nel mondo lavorativo. Tra i mesi di aprile e giugno la Puglia farà registrare 90.000 nuovi posti di lavoro di cui 70.000 nel settore dei servizi, dicono da Confalpi, sottolineando la necessità di un'adeguata formazione per i giovani che vogliono trovare occupazione nel comparto turistico. I ragazzi che non lavorano, che non studiano e che non si formano sono ancora 1.400.000. Quindi questo chiaramente stride con la forte richiesta da parte delle aziende che da un lato non riescono a trovare professionalità giusta e adeguate, dall'altro invece abbiamo dei livelli di disoccupazione ancora alta. Ecco qui, credo che l'intervento di oggi sia fondamentale, il ruolo dell'ITS è proprio quello di ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.